Eccoci tornati in diretta, pomeriggio con noi, allora io andrei a dare il più caloroso bentornato a Luigi Gabriele di Consumerismo, buon pomeriggio. Ma un caloroso, ben trovati a voi. Grazie di aver accettato il nostro video. Gabriele, siamo con l'avvocato Libutti, legale di Lione Inquilini e stavamo trattando l'argomento di sfratti comunque a persone che non possono permettersi una casa, case popolari, case anche stabili, occupati. Avevamo una domanda che stavamo rivolgendo all'avvocato Libutti. Che l'avevamo già fatto e che voleva rispondere in maniera importante. Avevamo un interrogativo in sospeso. Esatto, un tema anche forte. Sì, no, guardate, il tema è evidente che il tema appunto per le ragioni che ci siamo detti fino ad ora abitativo non può ricadere sul privato, quindi questo rispondendo a quello che dicevate voi, perché è l'assenza dello Stato in questo caso che dà risposta ai cittadini. Ma io vi dirò una cosa che magari vi lascerà scioccati. Voi immaginate però, perché molto spesso si fomenta la lotta tra poveri, voi immaginate che avete una casa che volete vendere e non riuscite a vendere da diverso tempo e nel frattempo però su questa casa ci pagate l'Immu, ci pagate le tasse come tutti gli altri cittadini. Ma immagino che voi non sappiate che se invece un costruttore, una casa di nuova costruzione resta in venduta, il costruttore non paga l'Immu. E ci chiediamo perché? Ci chiediamo perché magari utilizzare questo strumento, come fanno gli altri cittadini, il tassare la proprietà immobiliare che valida per tutti i cittadini magari può essere una maniera, uno spunto di politica abitativa che fa abbassare i prezzi poi a quel punto e rende vendibili le case. Perché io privato che voglio vendere un immobile, insomma, non lo vendo per tanto tempo a prezzo che dico, che faccio? Abbasso il prezzo fino a quando poi non arriverà un prezzo di mercato. Questo può essere un piccolo intervento dello Stato per rendere insomma anche un'idea, una visione abitativa, insomma, rendere l'abitazione fruibile a tutti, no? Di questo si parla poco, molto poco, non se ne parla da nessuna parte. Insomma, perché lei, io o chi altro magari dovessi avere la fortuna di avere una casa da vendere, ci deve pagare l'Immu fino a quando non trova un scendere. Soprattutto chiedo, nel momento in cui io ho una casa che non riesco a vendere, nessun privato la vuole acquistare, perché in quel caso lo Stato non dice Francesco te la compro io la casa e poi l'assegno? Anche questo potrebbe essere una soluzione. Ma io credo che debba rivolgersi, ci sia necessario innanzitutto partire dalla, come ci siamo detti, prima di rivolgersi al privato che lì sarebbe una... Al costruttore ovviamente bisogna arrivare. No, 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 ma c'è tanto pubblico invenduto, insomma, figure che ci sono degli immobili di proprietà del comune che non possono essere assegnati perché non ci sono i soldi per ristrutturarli, insomma, c'è molto da fare prima di arrivare a quello che dice lei. Magari anche requisire l'abbandonato perché non ci dimentichiamo... Ora non lo vorrei far diventare un tema politico, ma a Roma c'è un palazzo molto importante al centro di Roma che è stato occupato, era un palazzo di ufficio pubblico che è stato occupato e ci vivono tantissime famiglie che avevano bisogno di una casa e lì, insomma, lo Stato non ha fatto giustizia, ci ha pensato qualcunale. Le persone si sono fatte giustizia da sola? Assolutamente sì, era un palazzo abbandonato, anche quello, il tema è questo, se gli spazi restano abbandonati, quello che stavo cercando di dire, quello che tutela il nostro ordinamento è la proprietà pubblica o privata. Il nostro articolo 42 della Costituzione ci dice che la proprietà pubblica o privata è tutelata fin tanto che persegue una funzione sociale, quindi un immobile abbandonato, questo dobbiamo chiederci nell'ottica costituzionale, svolge una funzione sociale o no? Un immobile abbandonato è in realtà un immobile pericoloso per i cittadini perché può essere un luogo nel quale si possono svolgere le più amene cose e comunque al di fuori del controllo. Possono essere anche dei luoghi non a norma dove possono verificarsi i cittadini. Sentiamo però anche Luigi Gabriele cosa ne pensa su questo aspetto qui, poi andiamo sui prezzi, all'utilizzo del buon avvocato e stenderemo sui prezzi delle case, gli affitti, le vendite, il carello della spesa, quindi consumi perché è un fil rouge che lega tutto quanto, no? Gabriele. Beh, allora, diciamo che in Italia il problema grosso oggi non è tanto il numero di posti letto, se vogliamo quello ce ne abbiamo a sufficienza e ce ne abbiamo anche più di quanti il nostro paese si stia attrezzando con la natalità, come tutti sapete che è estremamente al di sotto di qualsiasi altro paese nel resto del mondo, anche dell'Occidente. Il tema vero è che noi, come ci ha detto l'Europa in questa settimana, abbiamo un'urgenza incredibile che è quella della riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, al netto dei cosiddetti edifici storici, al netto dell'incredibile patrimonio italiano di valore legato ovviamente alla sua tipicità e storicità. C'è troppa gente in Italia che non ha un accesso a un'abitazione di qualità, adesso dobbiamo capire se chi ha le risorse per poterle adeguare con soldi propri stimolerebbe un mercato nuovo, che è un mercato che è completamente fermo da troppi anni, dagli anni 70, in cui abbiamo costruito tutti e abbiamo costruito in malo modo. Dall'altra invece c'è chi oggettivamente non ha i mezzi per poter far fronte a né farsela da sola, nemmeno pensate al cosiddetto muto prima casa per le cosiddette giovani coppie under 36. Mi sono sempre chiesto se oggi nel cosiddetto panorama delle famiglie che cambiano non siamo corretti ancora a iniziare a porre delle limitazioni legate al fatto che o ancora se sono agevolabili o meno sono gli under 36 o se debbono essere agevolati tutti coloro che hanno bisogno di una prima casa, come sappiamo per come sono cambiate le dinamiche sociali del paese, si è pieno di singole, di coppie di fatto, di soggetti che hanno iniziato a lavorare tardi, che non si possono permettere un mutuo, il valore immobiliare delle nostre abitazioni è completamente legato esclusivamente al cosiddetto valore dell'economia posizionale, cioè tu la casa la paghi per dove si trova non per come è costruita. C'è questo grande tema che nessuno riesce ad affrontare perché ci sono troppe dinamiche precostituite, in questo momento poi sono subentrate dei nuovi fattori, nei centri storici delle grandi città stanno investendo i cosiddetti fondi di investimento che acquistano abitazione per finalità meno abitative ma legate piuttosto alla rappresentanza o alle sublocazioni come Airbnb e tutti gli altri portali hanno completamente stravolto il mercato, questo toglierà ovviamente posti letto alle famiglie o ai soggetti che hanno bisogno invece di un'abitazione per vivere. È un tema estremamente complesso che secondo me a questo momento... Per cui ci sono tra l'altro tante tante polemiche. Noi quindi ringraziamo, salutiamo l'Avvocato Libutti e rinnoviamo il nostro invito per anche settimana prossima a venire qui nei nostri studi per discutere ancora di questo argomento. Grazie mille Avvocato Libutti. Grazie a voi, con piacere, grazie a voi per avermi trasmesso anche un po' di allegria. Grazie, grazie davvero. Un tema così difficile insomma era complicato. Luigi Gabriele ci ritroviamo dopo qualche settimana, parleremo ancora del carrello della spesa degli italiani tra un attimo. Anche perché la situazione rispetto a qualche settimana fa non è cambiata, anzi forse piano piano stiamo andando verso un destino di peggioramento. Ora bisognerà capire le case anche perché il mattone fondamentalmente si dice anche... I materiali, poi adesso abbiamo sentito in questo periodo parlando di superbonus insomma... Che non si svaluta mai, quindi investire sul mattone è sempre l'opzione migliore qualora si voglia fare un investimento. È chiaro ma il mattone costa sempre di più, vale sempre di più, ma costa sempre di più e poi c'è il rischio che il mattone dopo che lo acquisti dopo un po' di anni te lo dai in testa perché non ci puoi fare nulla, non lo puoi comprare, non lo puoi rivendere perché nessuno ha più i soldi per far muovere l'economia. Il mattone costa di più, guardiamo il video, sentiamo un po' di numeri e poi lo analizziamo insieme. Mattone più caro è mercato immobiliare con segnali positivi in Italia nonostante la difficile congiuntura nazionale e non solo. Nel 2022 i prezzi delle case in vendita nel nostro paese sono saliti del 2% in media rispetto al 2021. A dicembre hanno raggiunto i 2074 euro al metro quadro. Tra alti e bassi che vedono in testa la classifica delle città più care ancora Milano. Seconda Firenze e poi Roma a tracciare il bilancio residenziale dell'anno che si è appena chiuso è l'osservatorio di immobiliare.it che fa il confronto anche tra le grandi e le piccole città che conquistano un interesse sempre più crescente. A salire nell'anno dell'inflazione a doppia cifra sono anche gli affitti aumentati a livello nazionale del 4,8% in un anno. Il 2022 si chiude dunque con i prezzi delle abitazioni in crescita nonostante una leggera frenata nell'ultima parte dell'anno. La città dove sono aumentati di più rispetto a 2021 è Trieste con un balzo di quasi 9% che porta a sfiorare i 2.000 euro al metro quadro ma è Milano che resta la città più cara d'Italia nel capoluogo Lombardo infatti in media il prezzo al metro quadro di un appartamento supera i 5.100 euro. A seguire si piazzano Firenze e poi Roma la capitale si ferma ad un più 1,5% con 3.340 euro al metro quadro. Tanto che per comprare casa nelle grandi città servono in media 6,9 annualità di stipendio. Come calcola l'ufficio studi del gruppo Tecnocasa Milano si conferma la città con il maggior numero di anni necessari ben 13,2. È molto chiaro il servizio Luigi Gabriele? Sì, tra l'altro mi veniva da pensare quando facciamo le media è sempre interessante perché ognuno fa le pondera sulla base dei propri valori di ragionamento. Comprare casa a Roma oggi o comprare casa a Milano è una cosa impossibile. Sfido chiunque di noi che voglia anche metterci se non parti con una base di partenza che non è il cosiddetto 20% dove si fermano le banche perché le banche come sappiamo oggi finanziano per la maggiore l'80%. Gabriele però un attimo solo cerchiamo anche di non parlare di percentuali perché poi è chiaro che varia da casa a casa da prezzo a prezzo. Diciamo che più o meno a Roma per una casa in una zona che non è proprio centralizzata. Sì, è sui 300.000, 200.000 euro se non di più. E di base devi almeno avere di partenza, quello che diceva il dottor Luigi Gabriele, 90, 100, 120.000 euro. Senza quelli non fai nulla. Noi italiani siamo comunque un paese di risparmiatori, però è anche vero che se uno investe tutti i fondi risparmiati, sicuramente dopo la prima crisi della pandemia e comunque questa crisi per quanto riguarda la guerra in Ucraina, sicuramente ci hanno toccato profondamente per quanto riguarda i nostri risparmi, ma seppur uno volesse investire tutti i propri risparmi su quella casa, alla fine rimane soltanto con lo stipendio. Sì, ma poi che cosa compriamo? Pensiamoci bene, noi non compriamo immobili di qualità. Tutte le offerte che vedete in giro online, offline, sulle agenzie immobiliari, ce ne fosse una che parla di una classe superiore alla G. La classe G nel migliore dei casi è perché proprio non si poteva andare al di sotto di quella lettera, perché oggettivamente non c'è scritto la categorizzazione al di sotto della G. Noi compriamo case di scarsissima qualità. Il comfort nelle nostre abitazioni è un requisito che non è oggetto di trattativa. In genere tu compri la posizione. A Roma, come a Milano, come nelle stragrandi maggioranze delle grandi città, tu vai a comprare un immobile che cambia di prezzo in base a dove si trova, non in base a come si è costruito. A cosa c'è vicino anche, Gabriele? Beh, soprattutto in una Roma e in una Milano, diciamo... Però in una Milano è diverso, perché io credo che a Roma ci sono delle zone che ancora non sono toccate dai mezzi pubblici, dalla metropolitana, e quindi bisognerebbe andare ad acquistare lì... Però dove questi luoghi non sono toccati dai mezzi pubblici, dalla metropolitana, è anche vero che a volte sono quartieri periferici e comunque difficili da raggiungere, sono magari anche delle realtà difficili. Non solo, sarebbe un investimento a perdere, perché io sì, pago di meno la casa, ma ogni giorno devo farmi quanti? 40 minuti senza traffico per arrivare sul luogo di lavoro? E allora di cosa stiamo parlando? Il fattore tempo è... Secondo me nella vita di oggi deve avere più valore. Cioè, se tu sei disposto a buttare un'ora della tua giornata, che non è mai... Quando si è fortunati un'ora, Luigi Gabriele? Ti stavo dicendo non è mai un'ora, sono sempre due ore. E se lo fai per 40 anni, quindi la cosiddetta vita media di lavoro, ma sono quattro anni della nostra vita che noi dedichiamo soltanto a uno spostamento, che in genere è sempre uno spostamento a perdere, no? Non è che durante quel momento tu riesci a muoverti agevolmente. Tutto questo perché? Perché quando abbiamo costruito dagli anni 70 in poi, non è stata mai fatta un'adeguata programmazione rispetto ai servizi connessi, tra cui il primo fra tutti è certamente il trasporto pubblico. Ma pensate anche alla qualità della vita in termini di vivibilità degli ambienti all'interno delle grandi città. Roma si trova in una condizione di disagio catastrofico, non c'è un quartiere a Roma dove possiamo dire che le strade sono ben curate, ci sono i servizi di raccolta rifiuti adeguati, i marciapiedi sono puliti. Noi abbiamo delle città in cui stazionano degli autoveicoli fermi per il 90% del tempo, in cui togliamo spazi e risorsi che potrebbero essere utili per far giocare bambini, che non facciamo perché non abbiamo la capacità di... Abbiamo anche quello, abbiamo un servizio con dei dati anche recentissimi di questa mattina appunto sul calo demografico, è una cosa devastante per fare figli, è un lusso. Perché non li facciamo? Non solo è un lusso in termini economici, ma provate, vi auguro di farlo se non lo avete, a trovare un asilo per un bambino dai 3 ai 6 anni. Sì, è vero, anche questo è un tema, anche questo è un tema, sì, leggevo anche qualcosa su questo. Allora, ritornando Gabriele all'argomento mutui, abbiamo un servizio realizzato appunto dalla nostra redazione, andiamo ad ascoltarlo e poi lo commentiamo insieme. Nuovo allarme sull'economia dalla stretta decisa dalla BCE riguarda direttamente le tasche degli italiani, o almeno dei tanti che hanno sottoscritto mutuo, col costo del denaro aumentato di mezzo punto percentuale al 2,5%, infatti l'orizzonte del 6% per gli interessi sulle rate appare sempre più vicino, è quanto indica un'analisi condotta dalla Fabi. Dopo mesi di rialzi e mutui variabili al limite della sostenibilità, la stretta finale della Banca Centrale Europea di questo fine 2022 si trasforma in un peso e un aggravio, seppur da tempo atteso, che Francoforte trasmette ai cittadini europei e traccia un passaggio importante per confermare la traiettoria del costo dei prestiti appunto verso quella soglia del 6%, sottolinea la Federazione dei bancari. Peraltro se i tassi medi si sono attestati nel mese di ottobre attorno a quota 3,2%, quando il costo del denaro era al 2% sul mercato, segnala il sindacato, alcuni intermediari propongono già oggi mutui con interessi superiori al 5%, quindi la decisione della Banca Centrale Europea farà alzare i tassi di interessi sui mutui e le famiglie, ad eccezione di quelli a tasso fisso già contratti con le banche. Le famiglie italiane comunque non devono rinunciare al sogno della vita, l'acquisto della casa, perché quando i tassi di interesse caleranno e diventeranno più favorevoli, sarà possibile estinguere il vecchio mutuo. Con uno nuovo più vantaggioso, rassicura il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Sì che possono schizzare alle stelle, insomma questa non è sicuramente una bella notizia. Allora, calo demografico, non riusciamo a prendere una casa, tra l'altro se noi giovani qualora volessimo... Per noi è impensabile. No, ma affitti. All'affittare un po'. C'è qualcosa anche sugli affitti, eh? Dottor Gabriello, vogliamo vedere subito sugli affitti, così via dente via dolore facciamo una bella carrellata di analisi, non se ne parla più? Facciamolo. Facciamolo, andiamo a vedere questi affitti che i giovani possono acquistare casa solamente in affitto e spesso e volentieri, quello che diceva Francesca prima, affittano questa casa fuori Roma, fuori Milano, nell'Interland. Magari anche in 40 metri quadrati pur di poter studiare ovviamente il luogo e non fare magari anche gli studenti pendolari. Che situazioni! Per i loro genitori è stata il luogo della stabilità e della crescita dei propri figli, ma per i trentenni di oggi, nell'epoca fluida del lavoro precario, la casa è sempre più un servizio, uno strumento di passaggio. Parte da qui, dal rapporto tra i giovani e la casa, la chiave di lettura per riflettere su come ristrutturare il patrimonio immobiliare italiano e far ripartire il mercato. Proprio quelli che sono stati definiti bamboccioni e che ancora vivono in casa con i genitori, se andassero a vivere da soli genererebbero una domanda di almeno un milione di alloggi. Il tema è stato al centro di un convegno sulla domanda abitativa dei giovani organizzato dalla Banca d'Italia e dalla Società di Iniziative Edilizie e Fondiarie, da cui è emersa soprattutto la necessità di rendere più fluido il mercato degli affitti. Per molti ragazzi, infatti, l'affitto, se non addirittura la convivenza con i genitori, non rappresenta un'opzione, bensì un obbligo, e per la fascia di popolazione al di sotto dei 35 anni, la componente in affitto ammonta al 35%. A pesare sulla scelta ci sono soprattutto le condizioni economiche dei giovani, che determinano anche la difficoltà di accesso ai mutui. Per risolvere il problema rivolgendosi agli 11 milioni di ragazzi tra i 18 e i 34 anni, secondo Confedilizia, è necessario per questo rilanciare l'affitto, soprattutto a canone calmierato, rimuovendo gli ostacoli specie di ordine fiscale che ne bloccano lo sviluppo. È impossibile, perché comunque poi se pensiamo, dottor Gabriele, noi abbiamo degli stipendi. È come un po' il discorso del mutuo e dei risparmi. Non tutti purtroppo abbiamo gli stipendi, ma chi ha la fortuna di avere uno stipendio non ha uno stipendio molto alto nella maggior parte dei casi, parlo per noi giovani. Quindi nel momento in cui io non sono uno studente fuori sede, magari sono anche a carico della mia famiglia di origine, ovvero dei miei genitori, percepisco uno stipendio, ma lo stipendio è basso e vado a pagare magari 800 euro al mese di affitto su uno stipendio di 1.400 euro, magari bollette escluse. Cosa mi rimane per vivere? Niente. Guardi, vi invito a leggere la Società Signorile di Massa, che è un libro straordinario edito da qualche anno ormai, che ci racconta un po' quello che è successo nel nostro paese. È vero che negli anni 60 i mutui erano al 20%, ovvero il tasso di interesse era al 20%, ma le case costavano un decimo rispetto ad oggi. E soprattutto non avevi bisogno di ricorrere sempre al mutuo per acquistare una casa, ancora si poteva tranquillamente fare con la cosiddetta stretta di mano legata alle cosiddette cambiali che hanno fatto la forza di questo paese. Se oggi tu ti devi sottoporre a un algoritmo ogni volta che devi chiedere un finanziamento, quindi è inutile che entri in una banca pensando che basta parlare con il direttore e vedono che negli ultimi dieci anni sei sempre stato corretto nel pagamento, ma che non hai la possibilità di rientrare secondo quelli che sono dei criteri preimposti, perché uno può anche benissimo dire se è vero destino il 30% al pagamento del mutuo, ma ci possono stare dei mesi in cui faccio delle rinunce e anziché il 30% posso addirittura allogare il 40% o il 50%, perché poi alla fine gli italiani la loro forza l'hanno fatta facendo le rinunce e dandosi delle priorità, cosa che su questo ancora siamo... Vi posso portare un esempio, anche perché fa molto ridere questo, Gabriele. Allora, ho visto una casetta, mi sono messo lì su internet, ho visto un pochino la situazione, allora ho calcolato, di anticipo potrei versare questo. Ah, ma per comprarla, sei stato ottimista. Ma no, ma era un gioco, lo so, è come quando fai una simulazione, è come quando desideri una macchina, c'è il car configurator sui vari siti web, quindi vai sul sito della rossa, insomma, ma no, della rossa, senza citare, ma abbiamo capito benissimo, e te la configuri, no? Metti il colore, il cerchio in lega, la cosa, e vedi come viene, poi scopri che costa quasi mezzo milione di euro e dici lasciamo stare. Beh, beh, rimane bella di tu. Io sono andato a vedere, ho fatto un calcolo, Gabriele, ho visto quant'era il tasso, ho visto un pochino la situazione, fatto sta che veniva per una roba tipo 40 anni, 30 anni, 40 anni, 40 anni, 1900, 1950 euro al mese. Beh, con 100.000 euro d'anticipo, Gabriele, 100.000, c'è, è questo che io dico, come si fa? E poi molto spesso queste case non sono neanche, sono da ristrutturare, hanno magari impianto elettrico, impianto idrico dove ripare. Non sono ammobiliate, ma io mi domando, e la risposta risiede in quello che ci ha detto il dottor Gabriele Pocanzi, i nostri genitori, i nostri nonni avevano il problema e litigavano tra marito e moglie se acquistare la seconda casa al mare o in montagna o in campagna. Noi non abbiamo neanche una prima casa e forse non ce l'avremo neanche. Il conflitto arrivava alla terza casa, quando dovevano decidere se era più opportuno comprarla per uso e investimento oppure per lasciarla ai figli, oppure vi ricordate le cosiddette abitazioni nelle province, in genere si facevano palazzoni di 3-4 piani con decine e decine di camere, perché la logica era sempre che forse la famiglia rimaneva tutta unita e quindi papà costruiva la cosiddetta stanza di casa in più per mantenere unita la famiglia. No, lo scenario è completamente cambiato, ma il modello economico è cambiato, il tema è che non è cambiato, il modello legislativo non ha seguito minimamente e soprattutto la proposta politica non ha seguito minimamente questo scenario che è cambiato così repentinamente. Perché ragazzi, io ho 44 anni o forse qualche anno in più di voi, ma già 20 anni fa, quando io mi accingevo a entrare nel mercato del lavoro dopo la laurea, questo evidente problema che la precarizzazione, il fatto che non ci fosse più il cosiddetto lavoro stabile, che non era più possibile accedere al credito in maniera uniforme e agevole come era accaduto per le generazioni precedenti, era un tema estremamente dibattuto e sentito, ma in 24 anni non è cambiato assolutamente nulla. No, assolutamente nulla, assolutamente nulla. E anzi, ci si propone davanti a noi una strada... Vogliamo vedere il servizio sul callo demografico, perché anche quello è devastante. Callo demografico e poi Emanuele Forcina, se abbiamo il tempo, non abbiamo il tempo, solo il callo demografico, facciamo perché poi fra 3-4 minuti dobbiamo dare la linea al Tg, quindi callo demografico. Callo demografico mette a rischio la sopravvivenza di molti Atenei italiani. A certificarlo è Talents Venture, società di consulenza specializzata in istruzione universitaria, secondo la quale il declino demografico può mettere in crisi molti corsi, sia per motivi numerici che finanziari. Nell'anno accademico 2021-2022, il 18% dei corsi di laurea aveva 20 iscritti o meno al primo anno, con una concentrazione dei corsi a numerosità ridotta nel mezzogiorno. Inoltre, se il gettito relativo ai corsi di laurea registrasse una contrazione pari a quella della popolazione di 18-21 anni, le minori entrate nel 2040 rispetto al 2020 potrebbero ammontare a oltre 600 milioni, un valore prossimo a quello che oggi realizzano i sette Atenei statali con il gettito maggiore dai corsi di laurea. Parlare di declino demografico significa discutere dell'esistenza stessa di molte sedi didattiche oggettive. Le preoccupazioni riguardano soprattutto i territori più fragili, in cui gli Atenei dovrebbero essere fondamentali leve di sviluppo. Si pensi che le 15 sedi didattiche presenti nei territori che registreranno il declino demografico più severo entro il 2030 sono tutte situate nel mezzogiorno e sei di queste avevano già meno di 100 studenti iscritti al primo anno Nell'anno accademico 2021-2022 commenta Pier Giorgio Bianchi, CEO di Talents Venture Quello che dicevamo prima, quello che dicevamo prima, insomma, è un lusso, è un lusso fare figli E soprattutto piano piano si va ad alzare comunque l'età a cui si hanno figli perché ad esempio per noi Gabriele è materialmente impossibile sia come pagare un affitto tanto più gestire magari un figlio dal punto di vista Perché i figli, diciamo, sono cari Oltre che pezzi di core sono anche cari Certo, ma io domando una cosa Ci vuole il fisico poi tra l'altro ragazzi, ci vuole il fisico per gestire i figli Eh no, certo, anche quello La domanda che mi facevo è un'altra La domanda che mi facevo è un'altra è questa Ora, nel momento in cui Gabriele una casa era la base, no? Dove si poteva stare per costruire una famiglia e tutto Il lavoro anche era una base E quelle certezze erano ferme, solide, lì ci si poteva appoggiare e fare riferimento E ora le abbiamo perse L'ultima certezza che ci rimane è mangiare Nel senso, e non per fare riferimento alla forma fisica Ma neanche quello quasi Il lusso quale sarà? Andare al supermercato e permettersi la farina? E permettersi un pacco di pasta? Beh, ma guardate, comunque questo è un problema tutto italiano però In Francia la natalità è molto diversa In Germania è molto diversa E poi comunque sì, la cosa assurda è che noi abbiamo dei termometri straordinariamente importanti Che potremmo vedere con 15 anni d'anticipo, gli asili Tu ti rendi conto se è un asilo il numero di bambini iscritti? Non c'è un assoluto, niente di programmazione ragazzi Piero Angela nel suo ultimo libro Le memorie di Piero Angela, le 10 cose che ho imparato Ha fatto un invito però, cioè, non è proprio economicamente sostenibile Va bene così, allora Noi la ringraziamo veramente tantissimo Luigi Gabriele di essere intervenuto Grazie, grazie mille Grazie mille, noi andiamo in pausa Ci fermiamo un attimo perché passiamo la linea al telegiornale di Cusano Italia TV Mi raccomando dopo il telegiornale Ma non era il Cusano Media Group una volta? Eh beh, il Cusano Italia TV è uguale più o meno a tra poco Mi raccomando dopo il telegiornale di Cusano Italia TV è uguale più o meno a tra poco Mi raccomando dopo il telegiornale di Cusano Italia TV è uguale più o meno a tra poco Grazie mille